aiuto Aiuto Aaaaaaah Ciao ragazzi Aiuto Benvenuti in questo nuovo video Io sono Marta la guardiola slash stai creando torre di una aiuto Che succede Che succede Mia casimira Ti sei preoccupata Si ma io ora sto controllando Nella galleria di balora E ora è già diventata un incubo E mi sa Scusa E poi Correvo a prendere cura di te Oh mia casimira Ti ho ritrovata Si Mi sa che a me mi avrei Trovata tutta Ecco L'avevo visto Cosa? Mi ha visto tutto? Si Ho visto Diver Circus Baby Che mi fa venire a venire a trovare E mi fa venire a spaventarmi Cerca di uccidermi E poi C'è Poter prendere che Mi Impazzesco A parlare E non Deve dare una brutta parzelletta Mentre Falta Foxy Mi sta psicopatico Non è possibile Vuol dire psicopatica Non Loro Mi sto tentando uccidermi Mentre Ballora la galleria Mi senti un cardio bruttissimo E anche dei minerini Ballano Ballano E mi salgo Lattosso E mi spavento un po' C'è anche i bini Ma che mi salvia Che pure Dicendo Toc Toc Ma che Bla 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 E Mi abbracciavano E cerco di uccidermi Oh mamma mia E' nerd Si pure E' nerd E' Guarda Loro Mentre La mosca E' Terribile E' Che sto mettere qua Aiutatemi Come facciamo Ok Una soluzione Bisogna stare po' calma Mi pensi? Si Anche noi abbiamo paura A uno degli incubi Aha Ma tu sei Coraggiosa Quindi non devi avere paura Ha fatto certe cose E tu hai paura Tanta paura Ah si Era un brutto sogno Ah si Guarda Ora sono tornati Nel banco Ah Tornati dentro Come sempre Io ho già paura Mi sarei meglio andare via da lì Ok E con una soluzione Finalmente Ti avevo ritrovato Si Quindi Allora Andrava tutto bene giusto? Già tutto bene Ah Finalmente la musica si è smessa Ah Armonia e pace Pace e armonia Armonia e pace Armonia e pace La serie Dimasha Si Si Chiamato Il racconto di paura Dimasha Ah mi piace tanto Però è divertente E poi Mi saprei rire così Di genere E vorrei essere meglio Che vuoi dire Beh Divertentissimo Oh D Ah Perché la musica Ricominci Oddio Fermati la musica Fermati Fermati Per favore Fermati Ok Sarà meno andare via da lì Ok Saltiamo su quelle nuvole E poi Se vedete Mi sono piaciuta Come sotto mi piace Oh oh I fontagni matronici Versari incubi Stavano vicino di più Ok Iscrivetevi al canale Scrivetevi al commento sotto Alla descrizione Tenetevi forte Reggi di più Ok Cliccate il campanile Dove ne avevo scritto Scrivetevi Commenti sotto In descrizione Che cosa volete? Oh mio dio E noi ci vediamo al prossimo video In guardia Ciao ragazzi e ragazzi Ci vediamo in altri episodi E ti amo Sarei meglio andare via da lì Ok Pronti? 3 2 1 Scappo Si scappo 3 2 1 2 2 2